Siamo qui con Macciocca al termine della gara vinta dall'Ossia Mare qui al Pinto di Caserta contro la Casertana di Maiuri. 2-1 un risultato che consente all'Ossia Mare di salire in classifica a quota 7 e soprattutto di cogliere i primi punti stagionari in trasferta. Una rete per Macciocca, la quarta stagionale, le tue sensazioni al termine della partita? Le sensazioni sono tutte positive, penso che abbiamo dominato questa partita dall'inizio alla fine, abbiamo sofferto un po' troppo gli ultimi 10 minuti, però gli stanti minuti abbiamo avuto una partita in mano e abbiamo controllato sempre noi e siamo andati su un doppio vantaggio meritatamente. Si è vista proprio l'Ossia Mare crescendo nelle ultime prestazioni, oltre alla qualità del gioco adesso anche i punti, non solo gli applausi come è successo in parecchie prestazioni. No, sicuramente adesso c'è tutto, diciamo che c'è grande determinazione, ognuno di noi ha tantissima determinazione, un vinto dalle proprie capacità e se andiamo avanti per questa strada senza perdici nuovamente possiamo fare bene e tirarci fuori anche per questo. Ti senti soddisfatto di questi primi mesi in bianco-viola? Ma a parte un po' la parte iniziale, un po' lo scotto diciamo, sia io personalmente che tutta la squadra collettiva che un po' l'esterno, però adesso penso che le ultime settimane, le ultime partite, ripeto, io e la squadra ci stiamo vedendo grossi distanzioni, come ad esempio oggi. D'accordo, complimenti e in bocca al lupo per le prossime. Grazie.